Paraninna Poi, inicia bella gara fortuna di Fozzagliari Senti, ma io ti volevo chiedere prima, no? Ecco. Sempre questo, quello che è addosso, quello che vediamo. Questo capolavoro, dici? Veramente, è un capolavoro. Lo vogliamo dire, intanto poi ci sarà una sorpresa, insomma, poi andremo avanti. Però lo voglio dire con tutto il cuore, perché è la prima volta, insomma, che succede e che succederà anche dopo. Ma lui è, in questo vestito, è Emilio Mazzitello, Nina Mancini, Atelier. Poi dopo avremo una piccola. Un applauso, un applauso va a loro. Però quello che vedete qui sono le opere d'arte di questo nostro bel Crucolese. I loro capolavori usciti direttamente dal loro atelier. Grazie mille, grazie mille a tutta la famiglia. Ok, allora grazie Virginia. E ora procediamo con la gara, perché il prossimo artista in gara è Piero Pesce. Autore, voce, percussione e chitarra, nato a Cerchiara Calabra, in provincia di Cosenza. Dal 2006 a Barcellona inizia il progetto delle questioni meridionali folk, sotto il nome di Jos de Maddalena. E allora questa sera per noi, qui a Crucoli, Piero Pesce. Io vengo da Cerchiara di Calabria, vivo a Barcellona, sono un emigrante. Quindi scrivo canzoni dei migranti. Voglio farvi sentire questa canzone, si chiama Melanconica. Ciao! Ho t'isì, na juren parla ponoigio e gioia re. Ho t'isì, na juren parla ponoigio e re. fa sapere al mondo no che senti non mi hanno ricci niente se vogliono credere fa sapere al mondo no che senti non mi hanno ricci niente si vogliono credere con una chitarra a mano due parole a già cantare con una chitarra a mano due parole a già cantare un forzo di succo in i vena ma già rupo sti catena l'ha già libera forza di succo in i vena ma già rupo sti catena l'ha già libera l'ha già libera in i vena in i vena i vena La stagente non tiene pieta. 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 Grazie a tutti. Piero Pesce al Gran Premio Manente 2014. E allora Piero raggiungimi perché questo ovviamente è il tuo momento. Io volevo salutare anche Antonio Grosso e Demi Vaccari che ci hanno regalato un po' questa esibizione insieme a un grande artista come lui, insieme a Piero Pesce, perché come dicevo prima lui a Barcellona è iniziato proprio questo progetto, questioni meridionali folk ed era un po' difficile farle arrivare tutti. Quindi ti sei servito della bravura dei nostri artisti. Sì, effettivamente è un po' difficile portare tutto il gruppo, portare la regista, portare un po' tutta la nostra produzione. Quindi si sono offerti Emi e Antonio e li ringrazio davvero perché in una giornata abbiamo fatto quello che avete visto. Bene, e non è facile devo dire. E allora Piero Pesce partecipa al Gran Premio Manente 2014 con Ag Vist, regia di Sonsoles Galindo, una giovane promessa della regia barcellolense, che tramite Piero si innamora proprio del nostro premio, del premio manente. La sua vita la dedica alla carriera verso il documentario e quindi è, come dire, l'internazionale qui a Crucoli. Il video da Soverato a Barcellona e i luoghi della bella Spagna con la musica tutta calabrese. Piero Pesce a Barcellona canta la sua Calabria con Ag Vist. Pesce a Barcellona canta la sua Calabria con Ag Vist. Pesce a Barcellona canta la sua Calabria con Ag Vist. Pesce a Barcellona canta la sua Calabria con Ag Vist. Pesce a Barcellona canta la sua Calabria con Ag Vist. Pesce a Barcellona canta la sua Calabria con Ag Vist. Pesce a Barcellona canta la sua Calabria. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.